E' stata emanata l'ordinanza numero 9 dell'8 aprile 2020 dal sindaco del comune di Sassano Tommaso Pellegrino, nella quale si fa obbligo a tutti coloro che, nelle uscite consentite, si recano fuori dalla propria abitazione di indossare la mascherina. L'uso della mascherina è obbligatorio all'interno delle attività commerciali, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie e di tutte le attività aperte al pubblico, sia da parte del personale che dei clienti. Tale ordinanza si pone l'obiettivo di preservare la salute di ogni singolo cittadino. Infatti sono numerosi i riscontri scientifici che dimostrano una riduzione della probabilità di contagio grazie all'utilizzo della mascherina. Nei giorni scorsi il sindaco Pellegrino, anche in qualità di medico, ha fatto numerosi appelli ai cittadini, invitandoli ad utilizzare la mascherina come presidio di difesa per se stessi e per gli altri. Oggi dobbiamo utilizzare un principio di precauzione che ci deve mettere nelle condizioni tutti di utilizzare la mascherina ogni qual volta usciamo di casa. È chiaro che il principio è quello di restare a casa tutti, però quando bisogna andare a fare la spesa, quando bisogna andare in farmacia o per motivi sanitari o per motivi di lavoro si è costretti ad uscire di casa, allora tutti la dobbiamo utilizzare, dobbiamo mettere la mascherina perché protegge noi stessi, ma è anche un principio di protezione per gli altri e chiaramente è una forma anche di rispetto per gli altri. Abbiamo visto che ci sono tante persone positive che però ovviamente non lo sappiamo perché saranno in buone condizioni di salute, ecco il motivo per il quale tutti dobbiamo, appena usciamo di casa, dobbiamo mettere la mascherina non soltanto le persone che sono affette da patologie respiratorie. Grazie.